I talenti vi darò! 5 di 1 vediamo un po' Se lavorare tu saprai un grande primo riceverai Se falli colpaio tu saprai nel regno di Dio entrerai Quali sono questi talenti? Sono i 7 sacramenti Prenderò unica restia, Dio e pane, mamma mia Cresima che emozione Mi trasformo in testimone Già nel mondo potrò andare il Vangelo ad annunciare In questo modo che non crede Io per forse la mia fede a tutto grido e canto E risolto Cristo sono E risolto Cristo sono E risolto Cristo sono